Sono ormai 21 mesi che i nostri due fucilieri di marina sono detenuti in India. È stata notizia di questi giorni che sulla loro testa incombe ancora il pericolo della pena di morte. Dopo questa notizia e dopo l'ennesima disfatta del governo Letta, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di prendere l'aereo e di recarci in India. Questo avverrà il 20 gennaio, ci recheremo all'ambasciata italiana in India, a New Delhi, dove sono detenuti i nostri due marò e cercheremo di conoscere quali sono i fatti che si sono nascosti dietro questa vicenda. Sarà un'indagine conoscitiva, cercheremo di non arrecare alcun fastidio ai nostri marò, ma vogliamo vederci chiaro. Purtroppo dopo l'ennesima disfatta di questo governo siamo costretti a recarci a New Delhi per vedere che cosa è successo.